Tullio De Piscopo, omaggio alla pizza napoletana al Teatro Augusteo di Napoli per i 50 anni della sua carriera artistica. L'artista napoletano è l'autore del brano Pumarola Blues, dedicato alla pizza napoletana e sostenitore della petizione Hashtag Pizza UNESCO, con Alfonso Pecoraro-Scanio che ha presentato l'evento L'Unione fa la pizza più lunga del mondo. Si terrà il 15 maggio a Napoli la performance in cui centinaia di pizzaioli cercheranno di battere un nuovo record, realizzando una pizza lunga due chilometri. Sul lungomare Caracciolo, dalle 9 alle 20, si terrà la sfida per entrare nella storia con la pizza appunto più lunga del mondo. Il brano di Tullio, Pumarola Blues, sarà la colonna sonora. Intanto è lo stesso Pecoraro-Scanio che ricorda che proprio durante la manifestazione si potrà continuare a firmare per la campagna Hashtag Pizza UNESCO. Il riconoscimento dell'UNESCO non è a un prodotto, perché non è mai un prodotto, ma è a una arte, quindi alla capacità artistica di questi artigiani e quindi chiaramente il riconoscimento è il nome arte dei pizzaioli napoletani. Adesso dobbiamo riuscire a ottenere una vittoria a livello mondiale, però io sono fiducioso, chi la dura la vince e noi dureremo.